ben trovati nell'angolo dello sport ci siamo domani pescarabari arbitra gherzini di genova le antenne dei tifosi sono già messe in agitazione perché gherzini quest'anno non ci ha mai arbitrato ma lo scorso anno si insomma non fu un arbitraggio molto molto accattivante anzi tutt'altro comunque sia inutile stare a recriminare prima hanno deciso che debba arbitrare gherzini è piuttosto duro nel nei suoi atteggiamenti facile a cacciare fuori i cartellini gialli e siccome abbiamo quattro giocatori importanti che sono già in diffida quindi insomma bisogna stare attenti perché potremmo avere per la prossima partita che sarà la trasferta di Salerno qualche giocatore importante in meno per quanto riguarda l'organizzazione di questa partita diciamo che la tifoseria organizzata ha lavorato molto bene hanno messo anche uno striscione lì sul ponte del mare dicendo tutti allo stadio insomma c'è un tam tam che sta lavorando con molta insistenza perché si abbia all'adriatico un bel pubblico sicuramente sarà il record stagionale non toccheremo i vertici almeno stando alle notizie che ho fino a questo momento non toccheremo i vertici non so di pescare a bologna giusto per fare un un esempio però ci sarà un gran bel pubblico oltretutto il clima pare ottimale quindi insomma domani dovrebbe essere una bella festa di sport anche sfruttando il lavoro fatto finora da oddo il quale per la verità ha messo su una formazione molto ben equilibrata molto ben calibrata che propone un gioco offensivo di tutto rispetto una serie di passaggi rapidi e precisi per lo meno in queste ultime partite si è notato che la percentuale dei passaggi sbagliati diventa molto bassa e quindi questo tiki tacca chiamiamolo così come dicono lì a barcellona questo tiki tacca pare che funzionare pare soprattutto che piaccia ai tifosi un bari che arriva a pescare rinforzato dopo sissoco e dezzi ci sarà anche tuttino un attaccante del 96 preso dal napoli adesso non so questi sicuramente dezzi e sissoco giocheranno c'è da dire che questa formazione io adesso tatticamente tecnicamente non vi propongo informazioni sul bari perché il bari di oggi è molto diverso dal bari di nicola l'ex allenatore adesso c'è il nostro andrea camplone e quindi in definitiva la squadra ha cambiato volto una squadra che con camplone ha giocato due partite uno fuori uno dentro casa e ha fatto quattro punti quindi in media promozione no pareggio esterno e vittoria interna oltretutto c'è da dire che camplone conosce molto bene questo pescara di oddo e potrebbe aver studiato delle contromisure valide in queste ore poi circola la voce del del passaggio di la padula al alla juve quello che ti lascia un pochino perplesso è la cifra si parla di due milioni e mezzo più la possibilità di avere un giocatore in prestito secco è Magnusson però però insomma rispetto ai sette milioni di cui si favoleggiava nel nei giorni scorsi mi pare che questi due milioni e mezzo siano piuttosto bassi piuttosto poco insomma del resto è un discorso che che riguarda il settore tecnico del del pescare che intanto ha fatto a registrare una rescissione consensuale con bunosa e il prestito ufficiale proprio di bulevardi all'aquila quindi diciamo che tutto è pronto perché si abbia una bella festa e nello stesso tempo c'è da dire che nel corso di della puntata che andrà in onda dopo il nostro telegiornale dopo questa questo mio intervento la puntata di a muso duro la trasmissione di Gianfranco Semproni si avrà modo di parlare anche del nuovo stadio perché ci sarà l'assessore allo sport di Pescara e con il quale sicuramente si andrà a parlare del dei problemi inerenti questo nuovo stadio a modernamento dell'adriatico o stadio completamente nuovo in un'altra zona beh la risposta sarà data sicuramente nel corso della trasmissione di a muso dura possiamo chiudere qui un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre a voi tutti un ringraziamento al cameraman Adriano Masciarelli e soprattutto un ringraziamento all'amico e collega il regista Leo Di Blasio appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport Ciao! 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 Ciao!